200 anni di storia, 200 anni di volontariato e di gratuità. L'8 e il 9 e il 10 luglio la misericordia di loro ciuffenna ha festeggiato il bicentenario tra numerose iniziative che hanno coinvolto l'intera comunità. Venerdì 8 luglio alle 21 all'auditorium si è svolto l'interessante convigno dal titolo Il Soccorso 118 tra efficacia e sostenibilità all'interno del quale è stato presentato anche il volume che raccoglie le memorie di due secoli di storia e di attività della confraternità. Perché 200 anni di volontariato a loro ciuffenna credo che sia un evento che va in tutti i modi ricordato, onorato e ringraziare tutti quelli che hanno veramente reso possibile questa bellissima cosa. E' veramente la cultura dei buoni esempi, la cultura dei buoni esempi è quella che manca a questo paese e soprattutto poi vorrei dire anche una cosa, una riflessione sul termine misericordia perché anche i termini poi danno una responsabilità a chi li deve poi tradurre in fatti concreti. Il libro è stato sostenuto dalla banca di credito cooperativo del Valdarno che da sempre è attenta alle iniziative sociali e culturali del territorio. Rappresenta davvero una storia straordinaria, una storia di secoli e in questi secoli i confratelli di loro hanno intercettato dal 1816 questa realtà, continuano a svolgere un servizio straordinario per la comunità dal punto di vista socio-sanitario, rappresentano il grande dono della solidarietà, della gratuità e del volontariato, questa capacità di donare il tempo. La banca non poteva non essere presente perché anche la banca circa 100 anni dopo nasce con gli stessi scopi, c'è lo scopo di dire si può fare mutualità, si può fare solidarietà anche attraverso l'utilizzo del denaro, per cui non potevamo non essere presenti e appoggiare questa iniziativa.